Senti, professore, tutto bene? È arrivata l'ora di giocare, però ricordatevi quel metro di distanza, più di due persone non potete giocare. E l'assemblamento attorno o niente, se no qui richiudono e vi attaccate un po' alla finestra. E cioè, stando chiuso, mi sentivo un po' fuori dal nostro comodità. Il signore qua ha bisogno ogni giorno di venire qua e prendere un po' d'aria buona. Abbiamo stato 4 mesi andato qua, 4 mesi. Ancora dobbiamo stare. È una buona cosa. È un buon segno. Per noi vecchi è buono che veniamo a perdere il tempo. Beh sì, però non è tanto pulito. Penso che prima avrebbero dovuto pulire, sistemare un po' il parco e poi aprirlo. Poi essendo chiuso da tanto tempo, un po' di pulizia ci voleva prima. E poi potevamo portare i bimbi a giocare. Finalmente almeno il giardino da tanta... Comunque, meno ma speriamo in Dio che ci salviamo. Buona giornata.